Il Dottor Paolo Perrino, amministratore unico di Toscana Food, nuovo sponsor, main sponsor della Palacanestro Don Bosco. Come è nata questa collaborazione, Dottor Perrino? Ecco, è nata da una volontà, diciamo, di volere far qualcosa per la città di Livorno, che ci ha colto ormai tre anni fa e quindi volevamo far qualcosa di interessante. Ho avuto la possibilità di conoscere Massimo Faraoni, quindi in veramente in pochi minuti abbiamo abbracciato e sposato il suo progetto, che è un progetto comunque di dare un futuro, una realtà a questi ragazzi e quindi Toscana Food si è subito appassionata di uno sport di cui personalmente avevo poca conoscenza. Quindi Toscana Food è un'azienda di ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, sul territorio di Livorno, come dicevo, ormai da più di tre anni. Abbiamo appena inaugurato anche un laboratorio di cucina proprio sul territorio e quindi quello che vogliamo fare è stare sempre di più all'interno del territorio. Aspettiamo il palasporto? Assolutamente, sì. Grazie. 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 Grazie.